Siamo con Mattia Bani in esclusiva per Fraser TV. Mattia, reduci dal pareggio di Latina, finalmente punti che arrivano anche in trasferta. Sì, sicuramente è stata una bella soddisfazione perché siamo tornati a fare punti in trasferta ed era importante su un campo comunque difficile, quindi bene così, speriamo di continuare così. Nuovo modulo, avete provato questo 3-5-2, 5-3-2 a seconda di come lo si vuole vedere, quindi tu ti sei trovato a giocare assieme a Colì e a Cosenza. Come ti sei trovato? Sicuramente penso che abbiamo fatto una buona gara in fase difensiva e mi sono trovato bene, comunque ero già abituato a giocare con questo modulo e penso aver fatto una buona prova in generale. Una soluzione in più per questa prova Arcelli, soprattutto quando si tratta di giocare contro squadre magari come Latina che giocano ovviamente per vincere, però sono comunque in questo momento una squadra che gioca un po' da piccola forse. Certo, sicuramente sarà una situazione in più per provare comunque a fare altri punti anche fuori ma anche in casa. A punto che adesso si gioca in casa c'è il Pescara a provarci lì, che tutto sommato è sempre andata bene, non lo gridiamo troppo forte, però sicuramente c'è l'obiettivo di fare tre punti contro una squadra che magari come le altre non viene da un momento propriamente positivo. Sì, sicuramente in casa è finora andata bene, cercheremo di continuare in questa maniera anche se penso che la classifica del Pescara non rispecchi il vero valore della squadra perché secondo me è una squadra che può ambire sicuramente i play-off. Quindi cercheremo sempre di giocare la partita che abbiamo sempre fatto. Le prossime tre partite, quella contro il Pescara ma anche quella contro Crotone e Ternana possono dire che tipo di squadra siete e possono permettervi forse anche di chiudere l'anno in una posizione ancora migliore rispetto a quella che avete adesso? Sicuramente cercheremo sempre di fare più punti possibili come abbiamo sempre fatto. Le prossime tre partite saranno sicuramente importanti come sono state tutte quelle precedenti. Quindi cercheremo di continuare così che secondo me stiamo facendo un buon campionato e le lotteremo qualunque partita come abbiamo fatto finora.